Staffan Perini, direttore di AFIPL, Istituto di Promozione dei Lavoratori. Ricordiamoci che l'Istituto di Promozione dei Lavoratori, insieme all'Eurac, circa due anni fa ha fatto uno studio, uno studio sulla mobilità sociale in Alto Adige, con 1.500 intervistati, dove abbiamo guardato qual era il contesto sociale in cui erano queste persone, gli intervistati, cosa facevano anche i propri genitori e questo ci ha permesso di capire se l'ascensore sociale in Alto Adige funziona, se funziona bene o se funziona male. Su iniziativa poi della Federazione Sanità e Sociale abbiamo poi, sulla base di questo studio, condotto dei workshop, quindi l'idea è stata quella che lo studio non rimanesse soltanto un lavoro accademico, ma anche da questo lavoro accademico venissero anche poi sviluppate delle proposte concrete da sottoporre poi anche alla politica altoattesina.